Ciao, sono Max Volpi e sono il fondatore del sito ifioridibac.com, nonché l'ideatore della floriterapia transpersonale evolutiva e delle costellazioni floreali, due dinamiche di lavoro interiore a base di fioridibac capaci di agire alla radice dell'inconscio. Nel video di oggi parliamo di quando scadono i fioridibac perché per legge l'etichetta riporta una scadenza ma dobbiamo capire se questa scadenza è una scadenza che ci interessa davvero oppure no. Ma prima di iniziare ricordati di iscriverti al nostro canale youtube utilizzando il pulsante iscriviti che trovi qui sotto e dopo clicca sulla campanellina per ricevere ogni notifica relativa alla pubblicazione dei nostri video che avvengono ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Quando scadono i fioridibac? Allora per legge chiaramente il produttore è obbligato a mettere una scadenza su un prodotto come i fioridibac che sono considerati a tutti gli effetti un prodotto erboristico. In pratica non scadono perché Bach parlando della tintura madre diceva retain its strength indefinitely quindi ritengono il potere curativo in modo indefinito in tempo indefinito quindi in realtà Bach dice della tintura madre che la tintura madre non scade. Facciamo un riepilogo breve per chi non lo sa che cosa è la tintura madre. Allora quando noi prepariamo i fioridibac ci sono due modi o la bollitura o la solarizzazione. In entrambi questi casi prepariamo acqua. Nel caso della bollitura facciamo bollire, nel caso della solarizzazione lasciamo che i raggi del sole abbiano effetto su questa ciotola d'acqua che contiene i fiori. Questo preparato si diluisce al 50% con il brandy. Si usa il brandy perché il brandy è ottenuto dalla vite che è un fiore di Bach, vine, e viene messo ad affinare in botti di rovere che quindi è un altro fiore di Bach che è la quercia e il rovere. Quindi questa tintura madre che è appunto 50% di liquido e 50% di brandy ritiene la sua forza in maniera indefinita. Cosa si fa da qui in poi per preparare le stock bottle che sono quelle che vengono comprate in farmacia, in erboristeria e quant'altro? Si prende una goccia di tintura madre e la si diluisce dentro a 240 gocce di brandy. Quindi per ogni 240 gocce di brandy c'è una goccia di tintura madre. Da qui si preparano le stock bottle che vengono vendute in farmacia. Queste stock bottle che vengono vendute in farmacia hanno una data di scadenza chiaramente, che è la data di scadenza che per legge viene assegnata a un prodotto erboristico. Però la domanda è questa. Cosa succede a 240 gocce di brandy dentro a una bottiglietta di vetro scura? Scadono o è brandy? Perché il brandy non lo buttiamo via, non ha una data di scadenza al brandy, anzi più affino al brandy è più buono. Quindi questa mezza goccia d'acqua che c'è dentro alle 240 gocce di brandy avrà una scadenza, visto che la tintura madre ritiene la sua forza in maniera indefinita, come dice Buck. Quindi io mi sono trovato spesso, perché ovviamente capita, soprattutto agli inizi, di avere delle stock bottle e di usarle con i clienti. Non hai ancora tanti clienti come terapeuta perché sei all'inizio e quindi magari qualcuna di queste scade. E va bene, ok? Fatene quello che volete. Io non vi dico che cosa farne, vi ho spiegato semplicemente com'è la procedura, ok? Quindi è vero che per legge c'è sopra una scadenza, però è anche vero che la tintura madre con cui andiamo a preparare le stock bottle che poi compriamo e che hanno una scadenza sono fondamentalmente fatte di brandy. Io sono Max Volpi, sono il fondatore del sito ifioridibuck.com, nonché l'ideatore della floriterapia transpersonale evolutiva e delle costellazioni floreali, due dinamiche di lavoro interiore e di crescita personale che potrai scoprire sul nostro sito accedendo attraverso i link che trovi qui sotto nelle note. Grazie e ciao!